Il turismo odontoiatrico oggi è una realtà e anche un business molto redditizio. Ne parliamo con il dottor Corrado Palmas che lavora in Moldavia già da otto anni e a cui vorrei domandare nelle cliniche all'estero chi è che lavora sui pazienti? Sono medici moldavi del posto o vengono da altre parti del mondo? Se per lavorare sul paziente si intende chi mette le mani in bocca al paziente allora sono medici maxillofaciali odontoiatri protesisti moldavi e anche un dentista sardo italiano. Se invece andiamo in maniera larga a vedere come vengono realizzate le terapie, beh in realtà ci lavorano americani, russi, europei, dal Giappone e anche dal Nottingham, Inghilterra. Parliamo di telemedicina perché non più i denti vengono fatti a mano ma vengono fatti con la robotica. La robotica è con il CAD-CAM che è una tecnologia che permette di fare i detti prima in tre dimensioni sul computer e riprodurre il virtuale in fisico con dei fresatori. Quindi il fresatore può essere in America, in Moldavia o a Milano o a Roma. Il progetto è essere realizzato a Parigi, in Moldavia oppure a New York. E senta dottore, utilizzare questo tipo di telecomunicazione ha dei costi maggiori sul paziente oppure è perfettamente uguale? Il contrario, ha dei costi notevolmente inferiori, aumentiamo notevolmente la qualità, aumentiamo la precisione e la standardizzazione. E dato che noi lavoriamo con pazienti, il 99% che arrivano dall'estero, Germania, Inghilterra, Francia, se si rompe un pezzo dell'automobile io posso inviare il file a Parigi dove viene ristampato e messo in bocca. La telecomunicazione è la nuova frontiera della medicina. Secondo lei non viene a meno il rapporto medico-paziente? Il rapporto medico-paziente è qualcosa che non deve assolutamente mancare dal momento in cui le macchine sono degli strumenti che devono essere guidati con grande perizia da professionisti. Per dire non assisteremo mai a un paziente che si scarica i denti dal mercato elettronico e se li produce in casa da solo.